I maltrattamenti andavano avanti da mesi, ma l'ultimo episodio di violenza di cui si è reso protagonista, avvenuto in presenza di diversi testimoni, gli è costato caro. Così è finito in carcere un 31enne tranese arrestato dalla polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura. Il risultato della denuncia presentata dalla sua coinvivente il 18 novembre scorso a seguito dei numerosi abusi ai quali veniva sottoposta, prima tra le mura domestiche, poi anche fuori. È stata la donna a ricostruire davanti agli agenti gli ultimi mesi terribili vissuti a causa del compagno. Aggressioni, minacce, pedinamenti. Una lunga serie di atti persecutori che, in base a quanto raccontato dalla vittima, erano cominciati nel mese di giugno. Infine, pochi giorni fa, l'ultimo gesto di follia. L'uomo ha raggiunto la donna in un locale dove si trovava con alcune amiche. L'ha presa per i capelli, strattonata, per poi sottrarle scarpe, borsa e chiavi di casa. Tutto questo sotto gli occhi increduli di numerosi clienti. Le indagini scattate a seguito della denuncia hanno permesso di raccogliere in brevissimo tempo diversi elementi di colpevolezza a carico dello stalker. Sono almeno otto gli episodi di violenza che la vittima ha dovuto subire prima di trovare il coraggio di rivolgersi alla polizia, mettendo fine ad un incubo che sembrava senza fine. L'uomo si trova adesso nel carcere di Trani e accusato di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori.